Il tema dell'HD ci ha portato tante risposte e alcune nuove domande quale sarà il formato dell'HDR il frame rate è quello che si sta proponendo adesso ci saranno evoluzioni quindi passare a una qualità migliore sembra possibile con l'HD la definizione di un formato è ancora incerta come possiamo risolvere il problema del poter produrre meglio cercando di tenere aperto il sistema di produzione la nostra proposta è quella di una transizione controllata al mondo IT un sistema di produzione che comincia a trasformarsi in IT lascerà aperta la possibilità di poter trasformare, processare e in ogni modo produrre nei formati attuali e anche in quelli futuri l'IT ha una serie di vantaggi rispetto ai prodotti dedicati e quindi il vantaggio più consistente è quello della grandezza del loro mercato del mercato IT quindi il valore globale dei mercati è nettamente più grande e quindi ci sarà un certo risparmio nella introduzione di questa nuova tecnologia ovviamente dovremo farlo con gli stessi workflow che teniamo attualmente dobbiamo farlo con la stessa attenzione alla cura dell'immagine e alla capacità di raccontare una storia qualsiasi sia il metodo di produzione uno bivan che va vicino a uno stadio o un mixer installato in un data center remoto in qualche zona del mondo quello che conta è la capacità di raccontare una storia i nuovi strumenti IT devono essere in grado di dare le stesse possibilità che oggi offrono i prodotti SDI il convegno a Lucca è stato certamente un evento interessante un pannello di presentatori estremamente qualificati molte risposte alcune domande alcune domande sono rimaste aperte l'evoluzione è in fase di processo un cantiere aperto a cui dobbiamo partecipare tutti un cantiere l'evoluzione un cantiere